9 marzo 1842, debutta al teatro alla scala di Milano la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Gli italiani ne apprezzano probabilmente i toni risorgimentali, rivedendo negli ebrei soggetti al dominio babilonese, loro stessi sottomessi alla dominazione austriaca. Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Il Nabucco. La rappresentazione ha subito un enorme successo. Grazie a tutti.